piccolo tutorial per poter stampare una pagina web senza tutte le schifezze e senza dover installare nulla allora una pagina a caso tipo questa e come vedete trovate tante cose barre di fianco bar di lato e volete solo stampare quello che vi serve tipo questo centrale senza anche il fondo allora si copia l'indirizzo della pagina si va su questo sito print friendly punto com si apre e vi troverete questa pagina qua basta incollare l'indirizzo appena copiato e fare print preview lui elabora qualche secondo ed ecco la pagina già pronta per essere stampata senza tante pippe in giro tipo queste o queste o la barra laterale in più avete la possibilità di cancellare certe parti che non vi interessano tipo queste che in una stampa magari non serve o queste che magari rompono le scatole fine tutorial una volta fatto questo diciamo che basta andare su stampa e stampare con la vostra stampante preferita